Nuovo appuntamento con cibo ed intorni ben ritrovati, vi presento una persona. Carmenella era una donna che nel 1892 ebbe un'idea geniale, quella di fondare una pizzeria. Era un'appassionata di cucina, soprattutto di pizze, dal 1892, varie generazioni, fino ad arrivare a Carmenella, la pizzeria che ci ospita oggi. Uno dei nipoti, dei suoi nipoti, Vincenzo, si è inventato un'idea geniale, ma veramente, adesso ve lo faccio conoscere. Eccolo, è lui che si è inventato quest'idea davvero originale. Lui è Vincenzo Esposito, il titolare di Carmenella, una storica pizzeria di Napoli. Allora, questa pizza che si può coniugare anche con degli ottimi aperitivi e con delle cose da bere, un'iniziativa dedicata ai giovani, ma insomma, come ti è venuta in mente, Vincenzo? Qualche cosa per avvicinare un po' i giovani a quella che è la vera pizza napoletana, non per avvicinarli perché la conoscono da sempre, però per renderli ancora più forte, questa avvicinanza con una tradizione che, insomma, non si deve mai perdere nel tempo. E quindi l'abbiamo abbinata ad un aperitivo che tra i giovani va per la maggiore, appunto, pizza e spritz. Però so che tu hai già in mente, perché questo è un evento che si ripeterà ogni... Certo, è una cosa che faremo il primo mercoledì di ogni mese, già ci sono in cantiere per il prossimo evento, faremo tipo, per esempio, pizza fritta e champagne, ce ne sono molte altre, in cantiere ci sono delle idee, sempre per stare, insomma, con i giovani in una pizzeria classica napoletana. Però, naturalmente, in base alla bevanda che voi proporrete, ti dovrai poi inventare, poverino, una pizza nuova ogni volta? Oppure, naturalmente, riproponi i tuoi cavalli di battaglia? Oltre a quelli, sicuramente, non è un problema per me creare delle pizze per ogni occasione, come quella che abbiamo creato per questa sera con lo spritz, dove ci sarà una pizza a base di crema di zucca, con fior di latte, nostro campano, friarilli, che sono appunto una verdura che esiste solo a Napoli, e del salame. Come vedete, sono ingredienti comunque tipici della tradizione napoletana, non siamo andati a cercare il cappero perduto, comunque ci teniamo in casa e abbiniamo questa nostra tradizione ad un qualche cosa che i giovani stanno cercando tantissimo. Certo, e poi piuttosto che l'idea, insomma, di trascorrere una serata e bere una birra, per carità, ottima, insomma, lo sfizio è anche quello di abbinare, quindi, il cocktail. Adesso noi andremo a conoscere anche la bartender che vi farà compagnia. Eccola, lei è Chiara Sperandeo e la bartender, che significa una specialista? In cocktail. È una specializzazione rispetto al barista. Ed è una figura soprattutto americana, direi. Principalmente americana. Ma davvero lo spritz va tanto di moda a quei ragazzi? Tantissimo, sì. Adesso noi lo vediamo mentre tu lo prepari, e così ci sveli anche quali sono gli ingredienti originali, perché anche su internet si trovano varie versioni. Invece, secondo la nostra bartender, come si fa uno spritz? Si fa con Aperol del Procecco e soda, oppure una sprucciatina di Celso. Quindi non si fa con l'acqua tonica, ma con Celso oppure soda, che è un'acqua molto, molto fricciante. Vediamo allora le fasi, naturalmente le percentuali, non ce lo svelerà mai quali sono, ma ormai tu lo fai a occhio naturalmente. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente sì. Prosecco, Aperol, poi... Ah, qui abbiamo il sifone addirittura. Ecco qui, viene molto friccante. Anche molto alcolico? No, non tanto alcolico. Non tanto. Una giratina, vabbè, perché naturalmente se no che Aperol spritz sarebbe. E poi, necessariamente, una fettina d'arancia. Senti, Chiara, ma è la prima volta che tu prepari uno spritz da accompagnare una pizza? Sì, questa è una novità. Questa è una grande novità. Io te lo rubo questo bicchiere e così andiamo a fare altre due chiacchiere con Vincenzo. Vieni con me. Io perfetto. Vincenzo, ecco, allora, scusami Chiara, ti ridò lo spritz, perché le domande sono tante e finisce che gli faccio l'intervista col bicchiere. Vincenzo, mi erano venute altre curiosità e cioè so che tu, come cavallo di battaglia, hai anche una pizza che si chiama La Dama, che ha una storia, una storia stellare, perché il 2020 per te sarà un anno stellare, raccontiamolo. Il 2020 sarà un anno stellare in quanto collaborerò insieme a tanti chef, tra cui molto stellati, preparando delle pizze per ogni mese dell'anno 2020. La Dama è una di queste pizze che ho creato insieme alla collaborazione, cioè mi ha più che altro regalato lui una sua ricetta, il mio grande amico e chef stellato, Peppe Guida, che è una pizza che nasce dalla ricetta di un suo piatto particolare, che è la devozione. È un semplicissimo spaghetti al pomodoro. Da questo spaghetti al pomodoro io ho creato questa pizza fatta con un pomodoro creato, secondo la ricetta di Peppe, e dopodiché ci aggiungo delle scaglie di grana tagliate a tartufo, un filo di extravergine d'oliva, un po' di basilico ed è finita. Semplicissima, ma nello stesso modo, nello stesso momento è una pizza di un gusto insuperabile. E questa sera ho deciso di abbinare questa pizza al nostro spizzo, oltre alle altre che abbiamo in carta. Naturalmente questa pizza io adesso la vorrò degustare con tanto disprezza. Certo, certo. Et voilà. E voilà, signore e signori, la dama è servita. Grazie a Vincenzo Esposito con questa grandiosa, divertente idea di pizza e sprizzo, o comunque di pizza accompagnata con degli aperitivi. Grazie a Chiara Sperandeo che oggi ha preparato questo bellissimo sprizzo. L'appuntamento è da Carmenella perché i prossimi mesi saranno dei mesi stellari. Ogni mese uno chef stellato regalerà a Vincenzo una interpretazione di una sua ricetta da mettere nel piatto insieme ad una pizza. Grazie per essere stati con noi, alla prossima. Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti